Smart Garage, via Alfonso Balzico 45, nei pressi della sede Ausino a Cava dei Tirreni. Purtroppo è una cosa molto triste perché stiamo parlando di una realtà bella che è il forum dei giovani che serve ai ragazzi per i ragazzi e pensare che proprio i ragazzi abbiano potuto fare un gesto simile è deprimente. In più è triste anche pensare che non si riesce a stare sicuri in una struttura comunale in cui comunque al centro di Cava dei Tirreni non perché in periferia magari sia consentito rubare ma comunque fa ancora più scalpore a mio avviso. Noi cercheremo sempre ovviamente di fare il massimo stasera comunque abbiamo in programma la serata dell'open mic con degli artisti locali e comunque stasera la faremo nonostante ciò speriamo che comunque purtroppo siccome la finestra incriminata da cui sono entrati la stessa del furto precedente speriamo che stavolta insomma l'intervento sia un po' più massiccio per la sicurezza della sede. Abbiamo chiamato la polizia che hanno iniziato a fare un sopralluogo e domani andremo insomma a deporare la denuncia ufficiale di tutto ciò che è stato rubato. Per ora stiamo finendo di fare una ricognizione generale per ora è stato preso sicuramente una playstation 3 l'altra volta è stata presa 4 un portone personale di un ragazzo per la palestra e poi dobbiamo finire di controllare insomma quello che è stato rubato. Amarezza è stata espressa anche da Angelo Canora presidente dell'associazione amici della terza età Antico Borgo che condivide la sede con il forum dei giovani. Noi in effetti funzioniamo anche come un supporto nei confronti dei ragazzi e sono momenti tristi questi qua è la seconda volta che capita in un paio di mesi e veramente sono cose che non dovrebbero succedere e chiediamo appunto all'amministrazione di starci vicino soprattutto per eventi come questi. I ragazzi erano tutti entusiasti perché stasera c'era una serata che hanno organizzato di musica però chiaramente poi viene anche lo sconforto perché non sono cose belle da vedersi. Speriamo si risolva più presto ma anche perché è una sede diciamo così che va veramente tenuta in considerazione.